Con l'estrazione delle carriere e il giuramento dei capitani siamo entrati in pieno clima giostresco, complice a una serata calda, la cerimonia che si è svolta in Piazza della Libertà e che è stata seguita su Teletruria con una lunga diretta ha regalato non poche emozioni, quelle che solo la sacralità di una manifestazione come la giostra del Saracino in tutti i suoi momenti che la precedono sanno fare emergere. Questo primo e attesissimo appuntamento del calendario giostresco ha visto quindi tanti quartieristi appassionati ritrovarsi per scoprire chi dei propri quartieri beniamini calcherà per primo la lizza con tutte le strategie che l'ordine imposto dalla dea bendata si porta. Partirà dunque per primo Porta del Foro seguito da Porta Crucifera, poi Porta Santo Spirito e infine Porta Sant'Andrea. Nella storia della giostra questo ordine di carriere si è corso solo cinque volte. La cerimonia è poi proseguita alla volta del Duomo dove è stata collocata la lancia d'oro dedicata a Giorgio Vasari e che sarà traslata nella sede di Signa e Rezzi solo il giorno della manifestazione. Intanto già da questa sera si entra nel vivo della competizione con le prove dei giostratori in Piazza Grande. Seguite anche in questo caso dalla diretta di Teletruria.